Al Ghiezi di Cesenatico di fronte al Parco Aquatica si sfidano nella finalissima playoff valevole per i campionati in prima categoria Gerone H a Romagna Granata e San Termite. La tensione si avverte subito sui volti dei protagonisti già un'ora e mezza prima dell'avvio del match mentre il presidente San Termite Martino compila la distinta ufficiale e si mostra il suo tesserino a dirigente. Dall'altra parte Granata, liberazione del torneo insieme a Mondaino e Sala si affida alla forza del gruppo e della propria dirigenza che merita un applauso a parte. In questo momento il Granati, virtù anche della categoria d'appartenenza, rappresenta la prima squadra della città. Società che rappresenta tra l'altro un quartiere di Cesenatico ma che da tre anni a questa parte la sua figura la fa nei migliori dei modi. Il San Termite, conosciuto all'amara retrocessione quattro anni prima, ritorna in promozione assieme al Gatteo, vincitrice del torneo, proprio la formazione giallorossa che allora spedì i Verdi in prima categoria. Martino e company lo sanno bene ma sanno anche che insieme a Riccione partivano con i favori del pronostico e dopo un inizio da incubo con ben cinque sconfitte, un applauso a parte lo merita proprio la dirigenza dei Verdi che ha mantenuto saldo la posizione del trainer Pazzini lanciando la propria sfida, specie nel giro di ritorno, quando solo all'ultima giornata lo sforzo ha premiato in quel di Mondaino l'accesso ai play-off. Liquidati da una parte in Nuova Fertia dall'altra in Riccione, finalissima che ha visto in campionato una vittoria per parte ma l'ultima volta quando si giocò da queste parti, un mese prima per esattezza, il San Termite trionfò per tre reti a due aggiudicandoci un match molto tirato. Arbita la gara Matteo Sintoni della sezione di Faenza, coadiuvato da Beatrice Toschi della sezione di Imola e Federico Pasotti sempre della sezione di Imola. Le curiosità del match, il Granata si è classificato a terzo posto finale del torneo con 50 punti, uno in più rispetto agli avversari, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte con all'attivo ben 43 gol fatti, 36 quelli subiti. Il San Termite classificato sul quinto posto finale non conosce mezze misure o si vince o si perde in Casa Verde, infatti la casella dei pareggi rivela un solo X in stagione mentre la voce vittoria corrisponde in numero 16 a quello delle sconfitte, il 13. 53 gol fatti, 38 quelli subiti. Miglior finalizzatore Zavattini a quota 10 gol, segue il centro campista VUCAI, fermato se si fa per dire a quota 9. Occhio ai gioielli che partono spesso dalla panchina, Emanuele Belloni e Francesco Marcaccio, colui che con una doppietta a Mondaino ha lanciato i paperini in paradiso. Per il Granata il miglior marcatore di stagione è Filippo Mancini, 14 centri di stagione per lui, segue Foschi a quota 6, ma anche in questo caso qualità da vendere al centro campo. Se da una parte VUCAI l'elemento di maggior qualità, Mastri e in Casa Granata non è da meno, entrambi tra l'altro ex Bellaria. Si inizia con un minuto di raccoglimento per la scomparsa avvenuta in settimana di Ermerlindo Bacchietta, vicepresidente della Liga Nazionale Direttanti. Senza giri di parole risulta essere subito una partita giocata da ambedule squadre a viso aperto. Un'azione per parte caratterizza la via due match, Mancini chiama la presa a Vandi, dall'altra parte Zavattini reca più di un brivido in girata alla porta difesa da Venghi. La sventola dalla distanza dalla carica ai suoi arriva da Romagnoli. Vandi blocchi in due tempi, dall'altra parte Zavattini lanciato in profondità davanti a Venghi, manca di freddezza, la soluzione di pallonetto è prenotizzata dall'estremo di casa. Squadre che non si risparmiano, qui la combinazione Mancini-Foschi viene murata dalla difesa ospite, mentre Zavattini sul versante opposto da calcio piazzato mette alto. E quando Rossi si ricorda che nella partita precedente il suo cost-to-cost aveva premiato i suoi propri sforzi, ecco l'inversione Rewind a Cesenatico, ma la sua conclusione è troppo debole per ripensierire Venghi. Buona, come si dice in questi casi, l'intenzione. E quando Vukai si ricorda di portare sulle spalle il numero 10, ecco che la sua sventola viene alzata sopra la traversa da Venghi, il quale viene chiamato a smanacciare due traiettorie velenose arrivate entrambe da calcio d'angolo. E sotto un diluvio universale, la gente segue con passione l'andamento del match, con un primo tempo che nelle battute finali regala questa conclusione fuori misura da parte dei padroni di casa e questa replica dei verdi con Genghini, che strutta troppo la propria conclusione. L'ultimo acuto di prima frazione porta alla punizione dei padroni di casa con l'intervento di Vandi. Squadra riposa sullo 0-0, tra gli applausi dei presenti. La ripresa è meno dinamica del primo tempo, il tempo migliora parzialmente e le squadre tornano in campo. Granata oggi in Vesta Argentina pronta a dare il calcio d'avvio, ma al settimo la gara si sblocca. Castiglioni autore di tre gol di stagione, su versante destro sfona al centro questo traversone che sbatte sulla testa di Ugone, il quale spedisce in fondo alla propria rete il pallone dello 0-1. Il replay, con un zoom purtroppo disturbato dal pallo di fronte alla nostra postazione, ci permette di misurare il tocco di testa dello sfortunato centrale difensivo. Qui parte la gioia del San Termete, raccolta nell'angolo dove sono posti i propri tifosi, pronti ad acclamare i propri beniamini. A questo punto subentra la mano dei due allenatori. A Gruste e Cantoni si giocano in tutto per tutto. Pazzini, mai una parola fuori luogo. Da Volpone qual è, capisce di avere la situazione in pugno. Dispensa consiglia Vukai, chiamato più di una volta nei suoi pressi a ricevere indicazioni e proprio il numero 10, con un tiodo a distanza, recca qualche brivido alla porta difesa da Venghi. Ma i cambi sono nell'aria e, come detto, attenzione all'ingresso del numero 20. Un certo Belloni sarà lui l'uomo decisivo, quello che da queste parti un certo Zaccheroni osava definire colui che sussurrava i cavalli. E proprio la sua pericolosità manda in alta tensione Venghi, che qui, senza giri di parole, dà il benvenuto in campo a neoentrato rimediando l'ammunizione. Il duello si ripete quando Belloni, lanciato a rete, si lascia ipnotizzare dal portiere ex Sant'Arcangelo. Ma per un attimo diamo la parola al direttore di gara. Il prossimo che sento va fuori. Il prossimo che sento va fuori. E' un avvertimento. Da una punizione insidiosa battuta da Boni, il Granato sfiera la marcatura, ma l'arbitro segnala un calcio di punizione a favore della formazione ospite. I padroni di casa si gettono in avanti, lasciando l'arma del contropiede a Belloni, quale vede rispedito al mittente il pallone del possibile 0-2, monumentale alias Aslani-Orest. E quando il signor Sintoni di Faenza decide di far valere la propria sintonia in campo, fa nelle specie l'allenatore Andrea Cantoni, costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Ma attenzione alle carte in tavola della panchina. Si alza Silighini e appena entrato, dopo uno scambio con il compagno, infila Vandi all'estrema sinistra, trovando l'angolo vincente. Ma noi, Igor, non riusciamo a mostrarvelo manco con il binocolo. Ci scusiamo con i nostri spettatori, ma in quel momento la batteria ci tradisse. Mia colpa, mia grandissima colpa, se ossa dire. Il Granata festeggia, ma lo fa solo per poco, perché il San Termete, squadra più fisica, sgorbutica e tosta, mettetela come volete, sa dove toccare per far mano all'avversario. E quando da un traversone di Genghini, Belloni impatti il pallone di testa, scontrandosi con Benchi, la sfera termina sotto la traversa per l'1-2 finale, che mandi in estasi il pubblico di fede ospite. È l'apoteosi e per Belloni è un gol che vale un'ammunizione, in quanto vale la pena liberare la propria gioia, togliendosi di dosso la divisa ufficiale. Primo piano anche per lui, in questo caso meritato. Il finale è di protesta locale, quando i piedi Zavattini e corde numero 18 di casa si incrociano sulla stessa strada, ma Sintoni di Faenza fa segno di proseguire e sul rinvio di Vandi scoppia la festa del San Termete. La squadra di Martino centra l'impresa e rimonta, tornando in promozione quattro anni dopo l'ultima apparizione. Sarà, a sua detta, la Cenerentola del girone, ma tanto Cenerentola, quest'anno certamente in San Termete non è stato, o nonostamente non lo è. Squadra forte, maschia, caratterizzata da un gioco fluido e dove non arriva la qualità, ci sono muscoli e polmoni pronti a mettersi a disposizione della squadra. E quando c'è bisogno, anche dalla panchina, entrano i cosiddetti jolly. Ecco che Belloni e anche Marcaccio risolvono quello che fino ad allora risultava essere un risultato insperato. E su Pazzini rimane solo l'applauso a scena aperta al club che ha pensato di tenerlo, nonostante un inizio da film horror, mentre Granata prende gli applausi del proprio pubblico scrivendo forse la pagina più bella della propria storia, sfiorando quella prima e storica promozione in promozione. I complimenti sono d'obbligo per ambe due le formazioni. Noi ci rivediamo l'anno prossimo con il racconto dei match del calcio locale. Grazie da Daniele Emanuelli.